Quest'anno il presidio temporaneo di polizia, una sorta di posto di polizia anche se non si può definire così, viene istituito ad Alba Adriatica? Sì, assolutamente così. Siamo presenti dal 1 luglio, quando abbiamo macchine in esubero su termo vengono mandate giù nella zona di Alba Adriatica dove l'amministrazione comunale e il sindaco ci hanno gentilmente messo a disposizione dei locali dove siamo appoggiati per qualsiasi attività operativa che viene svolta in quella zona lì. Ci sarà in pratica una volante? Ci sarà non solo una volante perché contestualmente alla presenza di questa nostra macchina che manderemo su diversi quadranti della giornata arriveranno anche pattuglie del reparto prevenzione e crimine di Pescara che in base a un piano coordinato di controllo del territorio ci daranno manforte e quindi la nostra presenza sarà di gran lunga superiore agli altri periodi dell'anno. Quindi servizi potenziati a tutto tondo sulla costa? Servizi potenziati a tutto tondo perché ci siamo resi conto che la zona più sensibile è quella, la zona nord chiaramente il punto d'appoggio è Alba Adriatica ma le volanti e tutti i servizi orbiteranno anche su Tortoreto, su Martinsicuro fino a Villa Rose. Questa previsione è stata decisa in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che abbiamo fatto in previsione dei servizi estivi e quindi anche d'intesa col signor prefetto Patrizzi di Termo e con gli altri comandanti provinciali delle altre forze di polizia abbiamo ritenuto che Alba Adriatica fosse il luogo ideale per poter concentrare questi servizi. Una battuta invece sulla sfilata inaugurale della Coppa Interami è andata tutto bene? È andata tutto bene, come avevamo previsto le misure che abbiamo adottato non hanno in nessun modo influito sulla libera circolazione delle persone mentre invece c'è stata una grande percezione di sicurezza perché le persone hanno potuto godere di tutto quanto lo spettacolo che era stato organizzato senza avere nessun tipo di disagio e contestualmente con la sicurezza che tutto si svolgeva nella maggiore tranquillità possibile.